Ciao ragazzi, in questo video oggi voglio parlare di una roba di Joker e Bianca. Allora, hanno cambiato server di GIA, hanno cambiato server e sono andati alla mafia. Questa cosa mi piace molto e non so se fanno uno e gli o uno e gli, una paradoria bellissima. Io sto seguendo GIA o tempo perché, signore e signore, forse quando mi passa uno e uno vanno a fare la visita, io ci sarò con Joker e con Bianca. Non so ancora se è buono partecipare con me, signori, con Joker e con Bianca. E va anche a Joker e il privato. E anche, è solo questo. Però, la cosa più migliore di lui, chiede sempre al Joker. Perché io non avevo un solo di Joker che è peccato. E anche, è solo il suo... il suo bocchiano. Anche? E... 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 La cosa... E... ma non fa che la, perché fa male la droga e qui la droga è la droga più blu anche buono non fa che la perché perché l'uiga ma non fa che l'uiga ma non fa che la droga ma non fa che la droga ma non fa male e poi la droga e poi... però è una bella cosa per la mafia e per la droga, è una bella cosa. E niente. Io gioco a poter scrivere il piano, se posso farlo. E poi ne dico se forse la re voglio dire questa mafia, che ho già già in grado, ecco qua, su PC. E niente, voglio vedere come funziona questa cosa della mafia. Ok, ciao signore, grazie a tutti.